Elia è arrivato il quarto risultato utile consecutivo, terza vittoria di fila dopo quelle contro Roma e Cesena è stata una partita approcciata molto bene dal Verona, questa contro l'Atalanta è un risultato che appunto dà continuità come l'avete preparata? Che partita è stata dal tuo punto di vista? Allora arriviamo da una settimana molto buona l'abbiamo preparata subito da lunedì con la testa giusta e infatti l'abbiamo dimostrato, l'approccio è stato ottimo è arrivato ottimamente il quarto risultato utile consecutivo che ci dà ancora fiducia e ci prepara la partita di Napoli che sarà un'altra bella battaglia Risultato importante anche da un punto di vista del morale sicuramente decisivo è stato il rigore che hai parato a pochi secondi dalla fine del primo tempo una situazione che avrebbe potuto riaprire la partita è il terzo rigore che pari in questo campionato come sta vivendo questa stagione da leader di questa squadra? come ti sei trovato con anche i nuovi compagni e insomma come speri che possa continuare? Sì, beh, molti compagni li conosco già dall'anno scorso perché un po' ho fatto con la primavera un po' con l'under 18 quindi li conosco abbastanza e da subito dal ritiro mi sono trovato benissimo e penso che anche grazie a loro si sto facendo questa stagione e sto avendo questi risultati grazie a tutti grazie a tutti